dal libro dell'esodo in quei giorni sorse sull'egitto un nuovo re che non aveva conosciuto giuseppe e gli disse al suo popolo ecco che il popolo dei figli di israele è più numeroso e più forte di noi cerchiamo di essere veduti nei suoi riguardi per impedire che cresca altrimenti in caso di guerra si unirà i nostri avversari combatterà contro di noi e poi partirà dal paese perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con le loro angherie e così costruirono per il faraone le città deposito cioè pitom e ramses ma quanto più opprimevano il popolo tanto più si moltiplicava e cresceva ed essi furono presi da spavento di fronte agli israeliti per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di israele trattandoli con durezza resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù costringendole a preparare l'argilla e a fabbricare mattoni e ad ogni sorta di lavoro nei campi a tutti questi lavori li obbligarono con durezza il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo gettate nel nilo ogni figlio maschio che nascerà ma lasciate vivere ogni femmina il nostro aiuto nel nome del signore se il signore non fosse stato per noi lo dica israele se il signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti allora ci avrebbero inghiottiti vivi quando divampò contro di noi la loro collera il nostro aiuto è nel nome del signore allora le acque ci avrebbero travolti un torrente ci avrebbe sommersi allora ci avrebbero sommersi acque impetuose sia benedetto il signore che non ci ha consegnati in preda i loro denti il nostro aiuto nel nome del signore siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori il laccio si è spezzato e noi siamo scampati il nostro aiuto è nel nome del signore egli ha fatto cielo e terra il nostro aiuto è nel nome del signore dal vangelo secondo matteo in quel tempo gesù disse ai suoi apostoli non crediate che io sia venuto portare pace sulla terra sono venuto portare non pace ma spada sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa chi ama padre o madre più di me non è degno di me chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo in verità io vi dico non perderà la sua ricompensa quando gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici discepoli partì di là per insegnare e predicare nelle loro città